Allora salve a tutti iscritti e non io sono TheAstatingBlaziken e oggi vorrei parlare di che fine ha fatto OfficialGames. Allora prima di tutto vorrei ringraziare tutti gli iscritti che siamo arrivati al traguardo di 100, proprio come il nome è OfficialGames100 e le serie anche che hanno avuto più successo come Animal Action Card e altre canzoni come Super Mario e varie. Allora, in tutto voglio dire che molti dei partner hanno lasciato perché avevano altri canali e quindi erano impegnati, per esempio GPGiova ha un canale quindi si impegnerà su quello allora ha lasciato, poi piano solo invece quello che faceva le musiche, quello che faceva su computer, come sabo e surf, come installarlo non lo sto vedendo più e quindi non so più notizie su di lui, mentre Ghast145, Super Magia Uri123 come lo volete chiamare voi a un altro canale appunto che sarebbe il mio cugino, vabbè, di cui non faccio noi, mentre poi i treni di co-channel sono spariti e apriranno un nuovo canale in cui grande a mille praticamente, mentre l'unico dove sono rimasto sono io, se riesco, ma pure se riesco continuerò a fare i video su questo canale ma proprio una volta al mese, comunque a breve uscirà un video di cui è sorpresa, no? Mentre poi forse i partner un giorno torneranno, non si sa, forse anche che riprenderanno a mille, per esempio io spero che un giorno io e mio cugino cominceremo a fare qualche video su Official Games 100, poi non lo so, e mentre voglio far vedere una piccola serie di tutti i migliori momenti che abbiamo fatto su Official Games 100, grazie a voi, e niente, vi lascio al video, ciao! Ciao a tutti ragazzi, oggi ho iniziato una nuova serie, ovvero Tecnici della Redstone Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova apertura di Animal 3D Action 3D Card Invece se non ce la metto la canzoncina, we are the champions Visto che queste puntate, non so, non so come abbiano fatto ad avere tanto successo Ha detto perché non continua? Allora qua abbiamo 3, 2, 1 Salve ragazzi Scusate, voi vi chiedete Su BOSF è vero compatibile con tutti gli android, anche se non è compatibile? Io vi dico la risposta, sì Dopo tante ricerche, ho trovato come installare su BOSF, su Galaxy Next Tourb, oppure altri diapositivi Buonasera a tutti ragazzi, ormai si può dire che è sera, anche se è pomeriggio, sembra sera, qui da casa mia Comunque, in questo video io vi spiegherò No, basta fare la voce da nerd Allora in questo video vi spiegherò come caricare video su YouTube superiori a 15 minuti E quindi da qui cliccherete su quel link E poi vi si aprirà una pagina che... Ciao a tutti e benvenuti in questa apertura di Carletto di Figurus 3D Collection Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Official Games 100 In questo video vi spiegherò come registrare il proprio desktop, cioè questo che state vedendo da ben 3 video caricati nello stesso giorno Vi spiegherò come si registra Ciao a tutti e benvenuti nella Marvel Wow, non Neo, ma Wow Oggi abbiamo Superllo Spider-Man Votate, commentate e iscrivetevi Per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo E niente, per questa apertura è tutto Votate il nostro canale Iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace e mettete mi piace anche la pagina Facebook Vediamo la prossima, ciao E iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace la pagina Facebook Ciao a tutti